Torna il problema della prostituzione nelle zone del centro cittadino, così come in periferia. Consigliere Pignoli, lei ha posto all'attenzione dei suoi colleghi politici, anche delle forze dell'ordine, quello che sta accadendo nelle ultime ore, nelle ultime settimane in città? Sì, avevo sollevato questo problema qualche mese fa, poi le forze dell'ordine, probabilmente seguendo anche le notizie apparso sui giornali o seguendo le loro indagini, hanno fatto un blitz togliendo per il momento la questione della prostituzione nel comune di Pescara. A distanza di qualche mese siamo appunto da capo, sono stato chiamato da alcuni cittadini che risiedono in via Enzo Ferrari e ovviamente in prossimità della pineta d'Annunziana e mi hanno fatto vedere, constatare come anche alla luce del sole ci sono queste ragazze che ovviamente stanno lì applicando praticamente il meretricio. Questo non è bello anche nei confronti dei pochi turisti che sono venuti quest'anno a Pescara e che ovviamente attraverso anche degli amici comuni mi hanno contattato dicendo che non è possibile che nell'immediata vicinanza del centro ci possa essere questo spettacolo piuttosto sgradevole alla cittadinanza e anche ai bambini i cui genitori non sanno più come giustificare questo comportamento di queste ragazze. C'è una soluzione per risolvere il problema? La soluzione è che ovviamente le forze dell'ordine devono fare di nuovo quadrato tra di loro ovviamente carabinieri, guardia di finanza, polizia per individuare una strategia comune affinché si dibelli una volta per tutte questo triste spettacolo di queste donne.